Preoccupazione per l'istituto Francesco Degni, Torreel Greco. Siamo qui in piazza Luigi Palomba, fuori alla sede storica, dopo che ieri un incendio è divampato all'esterno della struttura. Non dovrebbe essere niente di grave, come annunciato anche la dirigente scolastica ieri con un post. Le fiamme si sarebbero limitate a danneggiare il portone esterno, quello che vedete alle mie spalle, oltre la chiesa. È stato un principio di incendio, non un incendio vero e proprio, quindi il portone è stato solamente bruciato. Non sono ancora chiare le cause delle fiamme. Probabilmente, dalle prime analisi, sembrerebbe che l'incendio sia stato di origine dolosa, ma non sappiamo ancora quali motivazioni possono aver portato a un simile gesto, forse goliardia, forse estorsione, forse un atto vandalico. Ci sono al momento degli operai al lavoro che stanno cercando di sostituirlo. Le aree interne e la struttura non sono state coinvolte, le aule sono sicure e tutti gli impianti della scuola non sono stati toccati alle fiamme, sempre come assicurato la dirigente ieri. L'incendio è stato arginato al tempestivo intervento di un passante, che ha subito cercato di estinguere le fiamme, e dall'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza la zona. Questa mattina la dirigente scolastica, Rossella Di Matteo, ha sporto denuncia contro ignoti. Oggi gli studenti sono tutti in dad per consentire i lavori di riparazione del plexiglass danneggiato, ma già da domani sarà garantita la normale frequenza fra i banchi.